Buongiorno, sono Benedetta di Ennegan Luce & Gas, come posso aiutarla? Ma di che cosa vi occupate? Le passo il mio collega Salve, sono Fabrizio di Ennegan Luce & Gas, come posso esserle utile? Ma di che cosa vi occupate? Di frutta e verdura, solo che scriviamo Luce & Gas così, per attirare il cliente Allora me le portate le banane che mi sono finite No, ma guardi, lei il signor? Federico Signor Federico, ero ironico, stavo scherzando E io ora dove le compro le banane? Al supermercato E io devo andare al supermercato, voi non me le potete portare Ma quali banane, signor Federico? Noi le ho detto che ci occupiamo di luce e gas E perché non me lo diceva subito? Ma a casa mia si è bruciata una lampadina, me la avrete a cambiare? No, no, ma noi ci occupiamo della luce, nel senso che le facciamo arrivare la luce a casa La nostra azienda eroga solo energia pulita che deriva da fonti rinnovabili, energia verde Se lei sceglie noi, non solo l'energia che sfrutta è più pulita, ma lo diventa anche la sua coscienza Ma mi tolgo una curiosità? Mi dica, lei è un testimone di Ennegan? Basta, io mi arrendo Basta, io mi arrendo, io non so cosa fare con lei Ma perché mi sta facendo tutte queste domande che mi danno fastidio? Che cosa vuole da me? Io volevo fare un contratto Allora lei vuole diventare nostro cliente E allora lo poteva dire prima, signor Federico, va bene, ma procediamo con il protocollo Un'ultima domanda Mi dica Ma le banane sono comprese nel contratto, giusto? Le banane La banane è una cosa verbale Questo è le banane。 Sapina Ma la banane è un altro Cosa buffet